Allora, eccoci tornati a leggere le pagine sportive. Siamo al giornale dell'Umbria. In questo giovedì 16 di luglio, grifo a Tinta Viola con Salifo e Rosati, ufficiale il mediano e c'è la firma del numero 1 che si aggregherà in retiro. Occhio a Belmonte e del prete, ma i bianco-rosso non vogliono rinunciare ai 200.000 euro dovuti agli etni per il terzino. E Rizzo arriverà da svincolato. In bianco-rosso grande chance per rilanciarmi. E per un contratto triennale, questo è l'accordo, dice Rosati. Da oggi a Sarnano, prima fase della preparazione nelle marche fino al 30 luglio per Spinazzola, Dettagli e Alimare con la Juve, ma è in lista con il 4, numeri il 10 a Taddei. Ancora nebbia in casa rosso-verde invece, attese le firme, siamo ancora in serie B. Toscano da ufficializzare come i suoi collaboratori, il DS Cozzella e il resto dell'Entourage, i tifosi fremono. Scendiamo in serie D per ora, niente più tassa, il Gubbio ci crede dopo gli incontri avuti ieri a Roma, in ambito federale. Buone nuove sul fronte ripescaggio, c'è fiducia circa la rimozione dei 500.000 euro e quindi la possibilità di rientrare il Lega Pro in serie C. Praticamente, linea soft, si pensa ad alzare la fideiussione ma a rimuovere il fondo perduto. L'attesa, il termine per presentare la domanda di ripescaggio è il 27 di luglio. E poi, per la difesa spunti il ventenne Porcino, ex Sant'Arcangelo e Taranto. Radi è in stand-by, questo per il mercato. Ancora, Maiella, Castello faremo grandi cose, ufficiale l'arrivo dell'attaccante campano ex De Ruta e Pierantonio al posto di Porricelli. Foligno, Biscarini in prova al Matera, la Juniorres a Caporali. Umberti, riesce a leggere del basket serie A1, femminile, schiaccia il play e arriva la conferma anche per Giulia Moroni. Un altro pezzo da 90, ancora a disposizione di Serventi. E poi, per la scherma, Santarelli sogna, poi perde il podio per una stoccata. Prestazione super al Mondiale di Mosca per lo spadista di Foligno. Peccato, sono più forte di Jorgensen, puntini puntini, ma a volte va anche così. Questo dunque per il giornale dell'Umbria. Andiamo al Corriere dell'Umbria, Grifo, ciacca, si gira, Rosati, più salifu e scatta il ritiro. Santo Padre e Goretti c'entrano altri due colpi. Il portiere dice, mi hanno voluto, allenatore e presidente. Diventano otto i rinforzi per Bisoli. Oggi la partenza per Zamano, si lavora anche in uscita. Il Como su Rossi, Zanchi piace all'Ascoli. Saranno quattro le amichevoli a Sarnano, testa contro una rappresentativa locale. Poi la Maceratese, la Fermana, il Via e la Prevendita per le sfide di agosto, alcuni con Carpi e Bari. Ternana Vintage, Toscano, riparte da sette volti noti. L'organica attuale della Ternana è composto da 13 atleti e alcuni di questi sono già stati allenati dal cannibale. Vedremo anche in questo caso. Foligno, campagna abbonamenti al Via. È alta la febbre da Foligno? Punto interrogativo. Mercato ricco in uscita. Il portiere Biscarini va in prova al Matera. È quasi fatta per Menchinella a Gualdo. Fondi resta. Mister Caporale è la guida della Ioni Orres. Da oggi si possono sottoscrivere le tessere, come detto, per il Falco. Calcio d'estate. L'Overmec, gruppo Tiberina, regna a Dumbertide. Primo posto al torneo delle aziende del comune. Mister Bartolini è in festa. Gubbio sfuma bocca nera. E ritorna di moda Pisseri. Il primo ha scelto Piacenza. Il secondo può rientrare. Rosso-blu da Lega Pro. Il DS Pannacci sposta il Merino in porta. L'ex dice è un onore la telefonata. Piace il difensore Mandraccio. E allora, la curiosità, andiamo a leggere. Perché nell'articolo si racconta che ben 11 su 21 della scorza rosa hanno trovato sistemazione. E quindi restano senza casa in 11. Velocemente. Giannarilli è passato al Pavia che a sua volta l'ha girato alla Pistoiese. Citti, l'altro portiere, è girato dalla Juventus al Ponte d'Era. I difensori Danne e Lasischchi passano alla Maceratese. Loviso si è accasato all'Alessandria. Esposito ha fatto il salto in B scegliendo la Provercelli. Casiraghi ha scelto l'Ancona. Gli attaccanti, Tutino, per gli attaccanti. Tutino va all'Avellino via Napoli. Regolanti va a Matera via Frosinone. Vettraino va alla Cremonese di Gianmarioli. E poi Caldore, Luciani, Manganelli, Galuppo, Domini, Guerri, Mancosu, Cais, Bentoglio, Marchionni e Castelletto sono senza squadra. Luparini dovrebbe essere riconfermato a Melfi. E quindi vediamo cosa succederà. Ancora, per le moto Bellucci con Cia del Bis, anche Spa è dominata. Il Centauro di San Giustino ha vinto l'European Endurance Classic Series. E quindi questo per le moto. Baschetta 1 femminile, anche Giulia Moroni confermata ad Umbertide. Allora, andiamo a leggere lo sport dell'inserto della Nazione. Eccoci qua. Rosati firma per tre anni, siamo in casa del Perugia, salì fuori bianco-rosso. Si parte alle 17 e il Pullman lascerà Pianni-Massiano direzione Sarnano. Il programma di tutti i test domenica è la prima uscita. Gubbio, colpo rosso-blu, la squadra è nelle mani del giovane Volpe, ingaggiato il portiere di scuola juventina, 19 anni, Pannacci dice vogliamo farci trovare pronti anche per la categoria superiore. E poi Ternana sarà un'altra storia, parla a Meccariello, medaglia d'oro all'universia, dice la metteremo tutta. Beach Volley, Spoleto, Marta e Pochini alzano il trofeo in notturna. Tennis, Junior Perugia, Teodori si qualifica Parcava, KO. Calcio mercato, il colpo, città di Castello preso il bomber Maiella. Infine, per il messaggero dell'Umbria, Grifo, eccoci qua. Salì fuori a Rosati, il mediano ufficiale, il portiere ha lasciato il ritiro della Fiorentina, vado a Perugia per firmare accordo per tre anni. Oggi a Sarnano, domenica subito partita. Amichevoli con i locali, poi a Mando, la maceratese e fermana, subito tifosi in Carovana. Allora è tutto per questo giovedì 16 di luglio. Per questa rassegna stampa andremo ancora in replica per farvi leggere i quotidiani. Se non avete seguito la prima edizione in diretta, potrete seguirci anche in streaming, come sempre, sul nostro sito, è quello qua, trgmedia.it. L'informazione poi torna aggiornata questa sera con i nostri appuntamenti informativi, gli approfondimenti e quant'altro. Grazie per averci scelto, buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.